Si è svolto nei giorni scorsi presso l'assessorato all'agricoltura un incontro con le organizzazioni sindacali e gli operai idraulico-forestali con l'obiettivo di illustrare le soluzioni individuate dall'amministrazione regionale per risolvere le principali criticità nel comparto forestale. Nelle scorse ore ha annunciato Franco Alfieri, consigliere del presidente De Luca per le politiche agricole e forestali, caccia e pesca. Sono stati approvati decreti per il trasferimento di 21 milioni alle comunità montane e alle amministrazioni provinciali a titolo di secondo acconto per gli interventi di forestazione bonifica montana realizzati nel 2018 nell'ambito del programma strategico della regione. Grazie a queste ingenti risorse gli enti delegati potranno corrispondere alle mensilità arretrate agli operai idraulico-forestali e coprire le altre spese sostenute nell'attuazione degli interventi. Alfieri ha poi confermato l'impegno della regione circa la copertura finanziaria degli interventi di forestazione bonifica montana per le annualità 2019-2020 che ammontano a 160 milioni di euro. Abbiamo individuato, ha sottolineato Alfieri, un percorso praticabile per la stabilizzazione degli operai idraulico-forestali a tempo determinato. Le risorse liberate in seguito al collocamento in quiescenza degli operai a tempo indeterminato saranno utilizzate per l'assunzione degli operai a tempo determinato. Al momento questa rappresenta l'unica soluzione concreta per prospettare un assorbimento, seppure graduale, di questi lavoratori. Altre strade non sono percorribili. In questa direzione si muove la recente delibera dell'Aggiunta con cui è stato deciso di pervenire alla definizione di un modello di gestione multifunzionale delle foreste regionali che privilegi le filiere energetiche corte e garantisca ricadute positive in termini di reddito e occupazione sui territori.